L'Abruzzo per l'Expo 2015, un appuntamento tanto atteso e pieno di aspettative. Il 2 maggio, come annunciato dai vertici della regione, si è svolta l'inaugurazione di Casa Abruzzo. Lo spazio, esclusivo, racchiuso nel cuore di Brera, in pieno centro a Milano. L'inaugurazione si apre così. Sguardi quasi attoniti, quelli dei passanti, euforia invece per le istituzioni che vengono accolte in pompa magna. C'è grandissima attesa da parte di chi parteciperà e soprattutto da parte anche di un'intera regione e delle istituzioni. Che pensi? Ma che siamo davanti ad una vetrina, ad uno showroom che si affaccia sul mondo, perché per adesso e per tutti i sei mesi di Expo, Milano, la Lombardia sono dei balconi sul mondo e per il mondo. Avere questo aggancio qui ci consente di far sapere, far vedere, far misurare, far gustare, far ricordare anche, poiché noi vogliamo scommettere su questa straordinaria stagione e occasione di turismo esperienziale che mette al centro anche la qualità dei cibi. Soddisfazione per l'avvio dell'appuntamento più importante dell'anno, tante e tantissime aspettative e l'augurio di portare i massimi frutti da questa opportunità, una partita che va giocata in trasferta senza perdere neanche un punto. Intanzitutto noi qui abbiamo l'intenzione di rappresentare l'Abruzzo, non nella sua denominazione al plurale, ma nella sua capacità di essere sistema. Le terre alte, le montagne della nostra regione legano tutto il territorio regionale, così come il mare legano tutto il territorio regionale. Noi siamo la regione dove oggi gli abruzzesi, ma proprio oggi, stanno sciando in montagna e poi la sera vanno a cenare al mare. Ed è straordinario. Ci sono tutte le istituzioni regionali, tutti i rappresentanti del territorio. L'Abruzzo sarà una sola immagine, niente campanilismi, ma una squadra unita per aprire il territorio e le sue tradizioni al mondo intero. Una coesione territoriale, una coesione istituzionale, tutte e quattro le camere di commercio in un'unica camera di commercio, i territori tutti quanti uniti tra di loro presentano qui a Casa Abruzzo, ma anche sette giorni a Padiglione a Casa Italia dentro l'Ecospo 2015, un'unica regione, quindi una regione che ritorna a fare sindesi. Questa grossa sfida lanciata alla regione Abruzzo, organizzata da Abruzzo Lavoro, dalle camere di commercio, ma soprattutto anche dall'Associazione dei Comuni. A suggellare l'evento arriva anche il sindaco di Milano. Chiaramente Pescara, tutte le città dell'Abruzzo. Ho scoperto in questi ultimi mesi, in alcuni momenti in cui sono stato in Abruzzo per motivi sindacali di sindaco, ho girato gli agriturismi dell'Abruzzo, la natura, il patto bellissimo che si vede da un lato la montagna e praticamente vicino al mare, che è il mio sogno. L'Abruzzo è in festa per le vie di Milano, ci sono sorrisi, strette di mano, foto per immortalare i momenti più belli, tantissime presenze, e da cui parte la sfida dei 180 giorni per far innamorare il mondo della terra che unisce il mare con le sue montagne.